Buongiorno Meloccolo, pensate già sudato e ancora dobbiamo cominciare il vomitino, guardate che cosa si mangia. Buongiorno, buongiorno, faccio un quiz, chi è quella persona dietro Meloccolo? Se qualcuno lo conosce ci scriva nome e cognome che cosa fa e vince un premio. Oh bella sta cosa, tu di dieta in prima fila che mangi, non è educato, sai fa vedere quando uno mastica per un giornalista, Angelo Mangiante non lo farebbe mai, nonostante il cognome, ti è piaciuta? Era questo che volevo, ero lì che volevo arrivare. Tra l'altro c'è anche un ragazzo che serve al tavolo col signore là, il ragazzo io lo conosco molto bene, si chiama Ucchedu e credo che sia di Londra. Sì, di chiare origini londinesi. Ucchedu c'è la gravata che è più alta di te, vabbè. Allora oggi non possiamo non commentare la notizia. No perché ma se ne parla da giorni, poi era nell'aria che si sarebbe saputo ufficialmente in queste ore, no? Soprattutto ieri si è saputo e oggi è comparso sui giornali, su tutti i giornali. Che facciamo? Ora diciamo la possiamo mai sottacere? No, non sottacere è bellissimo. Non possiamo sottacere, come ho detto, hai la faccia, sei più munch del solito stamattina, sei molto più munch perché hai già giocato a tennis. Per la cronaca, per la cronaca, sembravo Sandro Padronostro, il doppio di ieri è stato perso dalla coppia Melocca-Rofiorello, ma perso proprio alla grande. Hai perso il primo set della tua vita. Quanto abbiamo perso? Sei uno, mi pare. Ma veniamo alla notizia di cui tutti stanno parlando e anche noi non possiamo sottacere. Sottacere, noi non sottaciamo. Non sottaceto. Allora, signori, la notizia è questa, la facciamo direttamente sul giornale perché ne stanno parlando. Ma anche in tutto il mondo, poi. Tutto il mondo, sì, una cosa tutta. Ecco, signori, attesa e ci siamo. Eccola qua. Albano e Romina, nostalgia russa, ritornano insieme a cantare. Vanno in Russia, insieme a Crocus City Hall. Il biglietto costerà 600 mila euro solo entrare perché in Russia è così. E tra l'altro non saranno da sole perché ci saranno Toto Cotugno, Pupo, ricchi e poveri, Umberto Tozzi, Antonella Ruggero dei Mattia Bazzara. E io no. Ecco, Gianni Morandi, Gianni Morandi. Io no, a me non mi ha chiamato perché a me in Russia non mi cagano dei pezzi. Ma tu sarei andato se no? Se Albano mi avesse detto, Fionello, vuoi venire in Russia con me che c'è Albano? Io solo per vederli insieme e toccarli da vicino e chiedere, e farmi una foto in mezzo a loro, una foto in mezzo a loro, io ce l'ho tra l'altro, una foto in mezzo a loro, io sarei andato anche in Russia con un Tupolev, mi sarei preso, un Topolev, come si chiama? Un Tupolev e sarei andato lì al Coccodrail, come si chiama? Crocus City. Questa secondo noi è la notizia di oggi. Non c'è altro da commentare oggi, vero? No, non è. Non mi sembra che sia successo niente. Sì, un po' di sport, Bale è stato comprato dal Real, il set è bello purtroppo non ce l'ha fatta. E questa soprattutto Federica Pellegrini vuole acquistare l'Inter. Guardi, si è scritto Pellegrini, Moratti, non vendere, ti aiuto io, quindi rinfrancata dall'argento inaspettato nei 200 stili libero, la Pellegrini si candida come Presidente dell'Inter. Bravissima Federica, aiuta, aiuta Moratti. Non fategli vendere l'Inter al Gagnon Style, che anche non c'entra niente con la nazionalità, però a me mi ricorda tanto, sai. Va bene, questo è quanto, rinnoviamo il quiz. Who is that man? Chi è quest'uomo? Potete iscriverci ai nostri numeri, alle nostre coordinate internet. Allora vogliamo sapere nome e cognome e che mestiere fa. Guardatelo bene. L'ultima cosa, aspetta, prima di chiudere perché non vorrei che il pubblico italiano perdesse Fiorello, con la fascia, ecco, con la fascia. Questa è tenuta da tennis, vabbè io non mi devo vedere perché sennò... Arrivederci da Stefano Meloccaro, Sky24, Laos e Vomito di Piane, arrivederci.